Questa volta in parole semplici vi spiegherò in cosa consistono gli assegni di mantenimento per i figli. Ecco, il linguaggio deve essere semplice soprattutto quando ci si rivolge ad un'utenza eterogenea che non è addetta ai lavori. Gli assegni di mantenimento per i figli indubbiamente sono una delle questioni più dibattute nelle cause di separazione e divorzio, ma anche nelle cause più in generale che riguardano le famiglie di fatto. I figli indubbiamente comportano dei sacrifici e questo avviene sia quando il matrimonio o l'unione familiare funziona o quando c'è la discreditazione familiare. Come si calcola un assegno di mantenimento per i figli? Innanzitutto il giudice deve tenere presente qual è stato il tenore di vita goduto dai figli in costanza di matrimonio o in costanza di unione della loro famiglia di fatto. I ragazzi andavano in una scuola privata? Benissimo. Continuano ad andare in una scuola privata anche dopo la separazione dei genitori. Facevano degli sport? Hanno il diritto di continuare a farli. Ciò significa quindi che c'è una sorta di tenore di vita in favore dei figli che va in qualche modo conservato. E' chiaro che entrambi i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione ai loro redditi ma anche in proporzione ai tempi di permanenza presso i genitori, quindi i tempi di permanenza presso il padre o la madre. Ed ecco perché il numero dei giorni in cui i figli stanno con l'uno o l'altro genitori incidono profondamente nel calcolo dell'assegno di mantenimento. Ed ecco perché per esempio in caso di parità dei tempi spesso e volentieri il giudice non dispone un assegno di mantenimento se i redditi dei genitori fondamentalmente sono sovrapponibili. Tenete presente che comunque l'assegnazione in godimento della casa coniugale ha comunque un valore economico. E il giudice anche nel computo dell'assegno di mantenimento per i figli non può non tenerne conto. Poi ci sono le spese straordinarie. Ecco, dovete sapere che in moltissimi tribunali italiani esistono dei protocolli per le spese medico-specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle scolastiche, quelle ludiche, quelle sportive e quelle ricreative. Anche le spese straordinarie sono oggetto di particolari contese in tribunale. E' evidente che ci sono spese obbligatorie, quelle ovviamente sanitarie e quelle di studio. Le altre devono essere fondamentalmente il frutto di una scelta oppure devono essere confermate se in costanza di matrimonio o di unione familiare erano già state previste. Poi il giudice può stabilire anche delle percentuali. Per esempio può stabilire di solito che le spese straordinarie vengano affrontate al 50%. Attenzione, le spese straordinarie nella maggior parte dei casi, come da protocollo, devono essere preventivamente concordate. Per cui non è possibile che uno dei due ex coniugi o ex compagni possa decidere deliberatamente senza il consenso dell'altro di affrontare le spese e poi chiedere il rimborso. Le spese per i figli riguardano anche quelli maggiorenni. E questo è un altro problema molto serio, molto sentito. La Cassazione sta cercando di trovare dei paletti importanti. Per esempio quando il figlio maggiorenne è iscritto all'università ma non fa gli esami o per esempio non studia e non trova un lavoro può perdere l'assegno di mantenimento. Ovviamente non esiste un limite di età oltre il quale l'assegno si perde. Per esempio un ragazzo maggiorenne che è inabile al lavoro o ha problemi fisici o mentali sarà comunque mantenuto da uno o da entrambi i genitori. In tutti gli altri casi appunto la Cassazione sta cercando di moralizzare questa situazione che per anni è stata un po' un problema. Per esempio tanti figli fanno caso ai genitori per la paghetta quando hanno 30 anni e tutto questo non può essere accettabile. Questo è quanto. Quindi io credo che quello che conta è che il legislatore metta mano al codice, stabilisca delle regole certe, ma una cosa dovete saperla, per i figli minorenni soprattutto, il contributo al mantenimento è inderogabile e attenzione a chi non paga l'assegno di mantenimento stabilito da un giudice o da un accordo. Oggi ci sono problemi di carattere penale, l'articolo 570 bis del codice penale. Sanzioni molto gravi, per cui invito tutti sempre a pagare l'assegno e se questo assegno è troppo alto chiedere la modifica, la riduzione, se per esempio chi versa l'assegno ha un reddito inferiore o ha perso il lavoro. E con questo ho concluso, ci vediamo alla prossima puntata.